Cosa comporta mettersi alla guida di un veicolo in stato di ebrezzo sotto l'effetto di sostanze? È stato presentato all'Aurum il progetto Pescara Sicura. L'obiettivo informare i ragazzi sugli effetti di alcol e droghe, soprattutto in relazione all'incidentalità stradale. L'iniziativa prevede più step anche per quanto riguarda il monitoraggio del territorio ed è finanziata grazie ad un bando europeo a cui il Comune ha partecipato come capofila. 350 mila euro i fondi a disposizione. Il primo controllo effettuato è evidenziato una percentuale non trascurabile. Oltre il 15% di giovani è stato trovato in alterato stato psicofisico a causa dell'assunzione di sostanze. Noi vorremmo che invece assumessero la consapevolezza di quelli che sono gli effetti devastanti che l'uso di sostanze vietate e l'abuso di sostanze che non sono vietate ma che in un dosaggio non normale, e mi riferisco chiaramente all'alcol, ma in tema di dipendenze potremmo parlare di tutto perché noi abbiamo allargato il campo e questa occasione con voi mi dà la possibilità di ricordare a tutti che oggi la dipendenza passa anche per i social, passa per la tecnologia, passa per l'alcol, passa per il tabacco, passa per tutte quelle sostanze o quelle circostanze che in qualche modo drogano la nostra normalità perché alterano la percezione della nostra realtà e alterano la risposta del nostro organismo alla performance richiesta. Il progetto, partito il primo luglio scorso, durerà un anno ma l'amministrazione Mascia ha già in programma altri piani di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale tra i partner del Comune di Pescara, la ASL e l'Università d'Annunzio. Per quanto ci riguarda noi siamo spinti per la ricerca delle nuove sostanze d'abuso perché vediamo che c'è una prevalenza sul territorio che è altissima soprattutto nell'ultimo periodo. È vero che le droghe classiche sono rimaste le stesse, cioè al primo posto la cannabis e poi c'è la cocaina ma le nuove sostanze stanno prendendo veramente piede sulle altre perché costano di meno e sono facili da reperire sul mercato perché si possono approcciare anche sul mercato del web.